Buongiorno cari amici, siamo qua oggi per parlare ultimamente del nostro sito. Avrete visto, come vedete in sovraimpressione, che abbiamo realizzato nel sito internet varie sezioni laterali. Tra queste c'è i mobili venduti. Abbiamo inciso di fare un archivio con fotografie, riferimenti, valori, degli mobili compravenduti nel corso degli anni dell'agenzia, il 2024 in fase di aggiornamento. Come vedete, tutte le varie schede sono collegate ad informazioni di riferimenti, utili ai fini di valutazioni immobiliari, anche per nensi conto di quello che è il valore di compravenduto della zona. Il nostro studio vuole coltivare un andamento di mercato che rimanga stabile nel tempo e permette a chi acquista e chi deve comprare di potersi imbarcamenare in questo percorso con la sicurezza di non acquistare né fuori mercato né vendere sotto prezzo. Per ogni dettaglio o per una valutazione specifica dei vostri mobili, ricordatevi che un servizio gratuito che il nostro studio offre a tutti i residenti della provincia di Caglia. Un caro saluto da Laborevico, medicini mobiliari.